Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca parlando in apertura dell'incendio che si è sviluppato questa mattina presso l'Enel di Cerano in un capannone superiore di un solforatore del gruppo 4 che è in manutenzione quindi non in produzione di energia. Le ragioni che hanno dato luogo all'incidente non sono per adesso chiare ma il sistema antincendio ha funzionato alla perfezione e il gruppo di vigili del fuoco presenti in azienda ha potuto domare le fiamme in poco tempo. Tutti gli operai sono stati messi in protezione secondo le norme di sicurezza previste dal protocollo che entra in funzione in casi del genere. L'Enel ha diramato un bollettino sull'accaduto. Ovviamente il fumo nero che si è elevato dalla centrale ha messo in allarme la città che vive sempre con ansia queste situazioni ed il sindaco ha seguito in tempo reale con i dirigenti dell'Enel l'andamento degli interventi dei tecnici. Anche l'ARPA è stata informata dell'accaduto ed ha inviato i suoi dipendenti per le verifiche del caso. Attorno alle 10.45 gli operai sono stati fatti rientrare al lavoro ed è rimasta chiusa solo l'area interessata all'incendio per la verifica delle ragioni che hanno dato luogo all'incendio. E con un comunicato stampa la Flai Cisle di Brindisi esprime un apprezzamento per come è stato affrontato e risolto l'incidente presso la centrale Enel Federico II. Questo risultato si legge e conferma quanto utile sia stato sottoscrivere il protocollo sulla legalità e sicurezza al quale hanno aderito molte delle grandi aziende presenti sul nostro territorio a partire da Enel. Questo strumento ha prodotto alcuni importanti effetti tra cui molti investimenti in materia di sicurezza proprio a cura di Enel nella sua campagna di prevenzione denominata Incidenti Zero. Anche la FICTEM CGL conferma quanto affermato dalla Cisle in merito alla sicurezza. Il circolo legambiente di Giulio di Brindisi e l'associazione Ricce Trasmissioni CB Brindisi affiancano la protezione civile del comune di Brindisi nella raccolta di materiali e beni di prima necessità come acqua, viveri a lunga conservazione, tende da campeggio in buono stato, coperte e brande da destinare alle popolazioni terremotate dell'Emilia. Domani chiunque volesse può portare il materiale da donare presso le sedi di queste associazioni dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21. Notte di fuoco a Brindisi. Due gli interventi dei vigili del fuoco. Il primo è il quartiere Perrino dove in un cortocircuito è andata un'area notwingo. Il secondo in via Borromeo al quartiere Sant'Angelo dove le fiamme hanno invece distrutto una Volkswagen Golf. L'auto era stata rubata a Collepasso in provincia di Lecce. Il legittimo proprietario è tornato nel suo paese natale per un periodo di vacanza dalla Germania. I militari del nucleo di polizia tributaria di Brindisi hanno sottoposto a sequestro preventivo una villa in corso di costruzione ubicata nel comune di Torre Santa Susanna che non rispettava i parametri urbanistici prescritti dalle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione di quel comune. Contestualmente al sequestro le fiamme gialle hanno proceduto alla notificazione dei provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini nei confronti di otto soggetti responsabili della abusiva realizzazione dei predetti immobili. Ed è tutto per la cronaca, linea che ora va alla regia. Ci vediamo tra poco per la prima parte del telegiornale. Grazie. 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 Grazie.